Vale Animal Pet Animalista e ambientalista Gli elefanti sono in pericolo, presentazione di Vale Animal Pet Gli elefanti sono sempre stati simbolo di saggezza e pace Ma nonostante loro fossero esseri eternamente pacifici, dagli anni 70 continuiamo a dargli la caccia Per caccia intendo non solo il bracconaggio, ma anche i circhi e la distruzione dell'abito Hashtag no animali al circo Sono vittime dei bracconieri per i loro zanni, cioè avori In realtà l'avorio non è altro che i capelli e un Ma nel mercato nero vale molto Perciò l'equilibrio della savana viene alterato solamente per il denaro Un'altra cosa antagonista della vita dei nostri cari elefanti è il riscaldamento globale e la seccità Che ovviamente sono state causate dall'uomo Ma parliamo di numeri, 20.000 elefanti circa vengono uccisi ogni anno dai bracconieri Considerati specie vulnerabili Non dimentichiamo anche il disboscamento, grave fattore che potrebbe portare all'estensione Cosa possiamo fare e stiamo facendo? Riserve naturali Per fortuna l'Africa è anche dotata di riserve naturali che insieme a degli scienziati si impegnano nel rinserimento di elefanti e coi in natura Rifugio per orfani Molti volontari invece si impegnano nell'aiutare i poveri orfani con genitori uccisi dai bracconieri investendo nel futuro Cosa puoi fare tu? 1. Sensibilizzare la gente 2. Se ne hai la possibilità, donna le varie associazioni sicure come il WWF 3. Informati su queste animali Save me